La Cassazione ha confermato la ricusazione dei giudici del Tribunale di Trani che si stavano occupando del processo incentrato sulla strage ferroviaria del 12 luglio del 2016, quando lo scontro tra due convogli della ferrotrambiaria sulla tratta binario unico Andrea Corato causò la morte di 23 persone e il ferimento di 51 passeggeri. La quinta sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inamissibile il ricorso di alcune parti civili contro il provvedimento della Corte di Appello di Bari che nel giugno scorso aveva accolto la richiesta di ricusazione presentata dai legali della ferrotrambiaria e gli avvocati Michele Laforgia e Tullio Bertolino. Per i difensori della società di trasporti, imputata e citata come responsabile civile nel processo, l'organo collegiale poi sostituito avrebbe dato per scontata l'inaffidabilità della ferrotrambiaria con una conseguente irrituale e illegittima anticipazione del giudizio in ordine alla responsabilità dell'ente. E i giudici baresi avevano accolto l'istanza di ricusazione, oggi anche confermata dalla Cassazione. Nello specifico è stato sottolineato come l'aggettivo inaffidabile utilizzato dal collegio ricusato, composto da Giulia Pavese come presidente, Paola Angela De Santis e Filomena Saraderosa come giudice all'Atere, attribuito alla società di trasporti nel provvedimento con il quale citava la regione Puglia come responsabile civile, avrebbe vulnerato l'imparzialità del tribunale, costituendo un'indebita anticipazione del giudizio di colpevolezza. Intanto il processo, incentrato sulla strage ferroviaria, va avanti. La prossima udienza, davanti al collegio di giudici subentrato, si terrà l'11 dicembre. Oltre alla società ferro-tranviaria, ad essere imputate sono 17 persone fisiche, dipendenti e dirigenti dell'azienda pugliese di trasporti e del Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, accusate a vario titolo di disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi colpose, omissioni dolose di cautele e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.